È una nuova stagione e dove ancora imparare tanto con Bologna. C'è il mister che mi ha sempre dato la sua fiducia. Allora io provo sempre a dare il massimo quando gioco, quando siamo in partita per imparare, per essere sempre un po' migliore. Quando gioco non penso a contro chi gioco o dove giochiamo, penso solo a guardare la paga, aiutare la squadra. Non mi fa niente giocare con un grande giocatore. Lo penso dopo, quando parlo con la mia famiglia, gli amici, però quando gioco essere davanti a qualcuno che è importante non mi fa niente. Non ho paura di queste cose, però lo so che è difficile, che devi sempre lavorare per poter giocare. Non mi fa niente di speciale sul momento. Io voglio giocare e quindi partire sul lare, però devo lavorare. Siamo tanti al mezzo campo, c'è il mister che fa le sue scelte e a me di provare ogni allenamento, ogni giorno che posso giocare. Però l'importante è di essere pronto e di aiutare la squadra quando sei in campo. Mi piace essere davanti alla porta o provare a tirare. Quando posso lo provo, però il mio ruolo importante è di fare giocare gli altri e di aiutare la squadra a difendere. Quando posso dare una mano o fare gol, lo faccio. E' questo che vai sempre in avanti nella vita, devi sempre fare un passo in più. Ho cresciuto di un anno, ho imparato tanto anche l'anno scorso, allora è un secondo anno per confermare, lo so. E si passa per tanto lavoro, imparare sempre, parlare con il mister, con le compagnie, lo so. Io parlo bene con il mister, mi aiuta sempre, mi dice sempre le cose quando devo girarlo e questo che mi aiuta. Quando devo fare una cosa, lo scolto, quando devo imparare, lo scolto anche. E mi ha dato la sua fiducia, allora almeno devo sempre scolterlo per imparare e andare in avanti sempre. La pasta, la mangio, mi piace la pasta bolognese. Poi il pesce anche, ho trovato qualche posto di pesce. E i tortolini anche, c'è tante cose che mi piacciono. Pensavi, io diventerò un calciatore. Io volevo fare questo, avevo solo questo in testa. Anche quando ero alla scuola mi sono fermato presto io, perché avevo iniziato a giocare con la prima scuola di Goronobili. Ho sempre avuto questo obiettivo in testa, ho tanti giocatori che mi piacciono, ci sono tanti. C'è un altro che è stato nella mia testa, ci sono tanti, forti, tanti, importanti. Sei uno di tutti che chiede le maglie agli avversari? Sì, ho già chiesto qualche maglia. C'è una maglia, non so che... Ho Rovigno, Amsic, mi piace a Napoli. Mi piaceva anche Marchizzo, alla Juve. Ci sono tanti, sono tutti grandi campioni, l'hanno già dimostrato tante volte.